Avrebbe potuto verificarsi una tragedia, così il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Elvira Mata, a seguito della frana verificatasi sul tratto di strada statale al chilometro 22,7 in direzione all'Itterme. La frana, venuta giù dalla montagna, ha determinato la perdita di controllo di un'auto da parte di un giovane conducente di Itala, che se l'è cavata, per fortuna, con diversi danni e alcune ferite non gravi. Ci ritroviamo adesso, scrive la Mata, che ieri ha tenuto un sopralluogo nella zona, con una porzione di strada statale, la 114, chiusa al traffico, con il conseguente disagio per chi ha necessità di transitare in quella zona per sportarsi da e verso sud e il costante rischio di ulteriori cedimenti dei costoni di roccia che ricadono sulla via. È una storia vecchia, già vista e alla quale bisognerebbe dare risposte in modo netto, mettendo mano in maniera capillare organizzata alla questione principale, il dissesto idrogeologico. A tal proposito, l'incontro immediato con Maurizio Croce, commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, al fine di ragionare su misure che non rappresentino solo un tampone momentaneo, ma che possano consentire quantomeno la garanzia di sicurezza a quanti attraversano o vivono in zone che possono essere considerate più a rischio, conclude. Al problema, diversi anni fa, si era interessato anche il sindaco metropolitano Cateno De Luca, che aveva fatto sviluppare un progetto preliminare per realizzare una galleria Paramassi, progetto che oggi da amministratore rilancia.